Cuba e gli Stati Uniti stanno ultimando i preparativi per accogliere Papa Francesco che il 19 settembre inizierà a Lavana, capitale dell'isola caraibica, il suo decimo viaggio apostolico internazionale. Il pontefice visiterà anche Holguin e Santiago e poi volerà negli Stati Uniti a Washington, New York e Philadelphia, dove concluderà l'ottavo incontro mondiale delle famiglie. Di alcuni temi di questo lungo viaggio parliamo con l'ambasciatore degli Stati Uniti presso la Santa Sede, Kenneth Hackett, in carica da due anni e che per 40 anni ha lavorato nel Catholic Relief Services, l'agenzia umanitaria della conferenza episcopale statunitense, della quale è stato anche direttore esecutivo. Ambasciatore Hackett, quali Stati Uniti accoglieranno Papa Francesco sette anni dopo la visita di Benedetto XVI? Se si ascoltano i politici esistono solo problemi di ogni genere, ma se si parla con i cittadini americani sono accoglienti e calorosi e ascolteranno quanto ha da dire Papa Francesco sulla povertà, i migranti, le vittime del crollo economico che soffrono. In generale l'economia si sta risollevando, la disoccupazione scende, è pertanto un buon momento per questa visita. Il nuovo dialogo con Cuba sta portando speranze negli Stati Uniti. C'è gratitudine per il ruolo giocato dal Papa e dalla Santa Sede nel facilitare questo dialogo? C'è moltissima gratitudine. Il Presidente Obama ha affermato all'inizio della sua campagna elettorale che la nostra politica su Cuba era obsoleta e non più praticabile. L'opportunità di lavorare con il Santo Padre per cambiare la dinamica dei rapporti tra gli Stati Uniti e Cuba ha offerto grandi opportunità. Vi è ora un afflusso di ditte americane che si recano a Cuba per vedere se riescono a coinvolgere l'economia cubana in nuovi scenari. Pertanto tutto questo è molto positivo, ma soprattutto il ricongiungimento delle famiglie che possono muoversi avanti e indietro, che è anche un altro aspetto molto positivo. Ritengo che il Santo Padre al Congresso presenterà anche una richiesta, un appello affinché venga anche revocato l'embargo, in modo che i rapporti tra gli Stati Uniti e Cuba tornino alla completa normalità. Il Papa entrerà negli Stati Uniti da Cuba come un migrante. Per ricordarci che siamo un paese di migrati, hanno detto i Vescovi degli Stati Uniti. Il Papa e il Presidente parleranno sicuramente della crisi migratoria in Europa. Com'è vista dagli Stati Uniti? La crisi in Europa comincia ad essere compresa adesso negli Stati Uniti. Le orribili immagini di quel bambino hanno colpito il cuore delle persone e hanno provocato una riflessione da parte degli americani su quello che succede nel loro stesso paese, con chi viene dall'Honduras, dal Nicaragua, dal Messico e che risale attraversando la frontiera con gli Stati Uniti. Deve esserci un flusso di persone che attraversano le frontiere ma va gestito in modo intelligente. In Europa ritengo che ciò che sta succedendo sia stata una sorpresa per i governi europei, mentre per noi non lo è. Dobbiamo accoglierli, tutti i nostri nonni vengono da altri paesi e quindi noi siamo una nazione composta da immigrati e dobbiamo continuare ad accogliere questi stranieri che arrivano da noi. Nei suoi discorsi alle Nazioni Unite e al Congresso degli Stati Uniti, Papa Francesco porterà anche il messaggio della sua enciclica sulla cura del creato, laudato sì, che molti negli Stati Uniti hanno letto come una forte critica del capitalismo. Ancora l'ambasciatore Hackett. Ritengo che chi ha effettivamente letto l'enciclica comprenda che vi è una critica degli eccessi del capitalismo quando il capitalismo si spinge troppo oltre. Noi dovremmo fare qualcosa contro gli eccessi del capitalismo e contro il perseguimento di un profitto orientato a fini contrari alla realizzazione della persona umana.